Insieme a mia moglie, Marina, abbiamo organizzato insieme tutti i vari negoziati della zona di Piazza di Vittorio, vogliono dei fondi in questa iniziativa, per fare un po' contento dei bambini, facciamo delle foto e mettiamo l'ambiente al comune natalizia. Ciao a tutti, abbiamo cercato di animare la piazza in questo Natale, per fare qualcosa per i nostri bambini? Bambini e anche adulti, nonni, nonne, dato che fa freddo però un po' di calore con queste luci, con un bel camino, con un bel presente, una bella slitta, Babbo Natale e un po' di qualche pensiero anche per i bambini. Esatto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.